buongiorno buongiorno ragazzi buongiorno da zurico dalla lima talla dunque oggi ho un impegno qua a zurico abbiamo fatto una passeggiata dunque allora ieri l'inter ha perso 2 a 0 ma non ho fatto né video né niente ah c'è una novità il 28 inizia juventini in svizzerland in lingua tedesca diciamo iniziamo in lingua tedesca poi vediamo come va a finire ma penso che la facciamo in lingua tedesca per i nostri connazionali che abitano qua in svizzera se c'è qualche juventino che è interessato anche il poi in svizzera mi faccia sapere che lo facciamo entrare nella nostra nella nostra più dunque di juventini in svizzera il 28 si parte e poi vediamo come va a finire intanto ieri l'inter ha preso una bella scoppolona con liverpool 2 a 0 il paio non mi sembra pareggiato 1 1 il bayern ha pareggiato 1 1 poi altre partite il 5 0 del city poi che c'era ancora altro che ha giocato ancora e l'1 a 0 del pari saint germain contro il real di madrid il real di madrid queste sono la champions league che si sono giocate questo questa questa i due giorni di coppe la prossima settimana torca a noi contro il villa reale mille reali e vediamo bene domani c'è il derby giuve torino tre punti fondamentali per noi e questo è un momento dopo la partita a caldo il tram 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 è un saluto da zurico ciao ragazzuoli ciao iscrizione al canale iscrizione al canale con due date